questo è il pantaloncino di rafa della linea core senza bretelline ma comunque resta sempre su lo uso ormai da anni estremamente comodo all'interno ha un paio di elastici che servono penso o almeno io da anni lo uso per questo per stenderlo una volta fatto il bucato questo è uguale identico e anche questo è lo stesso pantaloncino questo invece è la variante cargo sempre della linea core rilasciato da non moltissimo la differenza sostanziale che ai lati ha delle tasche di rete e che l'elastico che va sulla gamba è leggermente più corto probabilmente proprio per far spazio alle tasche andiamo a vedere come va se comodo o meno la linea core rappresenta la parte più accessibile di rafa ed ho voluto usare la parola accessibile e non economica perché si tratta comunque di un pantaloncino da 85 euro nella versione classica e da 115 euro in questa versione cargo che è l'oggetto di questo video la versione classica del pantaloncino core la uso ormai da moltissimi anni ed è il motivo per cui ne ho diversi mi ci trovo bene sia nelle uscite corte ma anche in quelle più lunghe di diverse ore sia in condizioni calde o più calde ma anche quando inizia ad abbassarsi un po la temperatura vale dunque la pena spendere 30 euro in più per la versione cargo sì e no nel senso che le due tasche laterali fanno sicuramente comodo per portare dietro una barretta in più o non lo so dei fazzolettini o qualcosa di morbido diventa un po più scomodo ovviamente qualora l'oggetto fosse rigido come uno smartphone o la propria gopro ad esempio secondo me la differenza di prezzo non va a giustificare questa opzione in più diciamo ok direi che per oggi è tutto la giornata è fantastica quindi continuo il mio giro iscrivetevi al canale mettete un mi piace ci vediamo al prossimo ciao